Ormai manca poco eh, ci siamo, le elezioni sono vicine e vediamo come reagiranno i mercati. Per ora il sentiment da Trump, il nostro Donaldino come vincitore. Ho fatto un sondaggio, chi preferiresti vincesse? Ho scritto, l'ho fatto un giorno fa, 87% han votato Donald e un 13% Kamala. Questo rispecchia in realtà un po' il sentiment generale, la maggior parte di persone pare sia favorevole a Donald, vediamo effettivamente come andrà. Intanto vediamo Bitcoin che si è fatto un inciampo, ora andremo a guardarlo graficamente per capire cosa sta succedendo e che cosa mi aspetto. Ho fatto 13 ore fa questo post, Bitcoin è in calo, mi riferivo alla giornata di ieri, pensi che ci sia un retest in atto o un dump più profondo? Un 69% delle persone ha parlato di retest, quindi crede ci sia semplicemente un retest e poi un rimbalzo, invece un 18% un dump contro un 13% che non ne ha idea. Quindi una maggioranza sì, ma non così tanto schiacciante come si possa credere. E andiamo a questo punto a vedere i grafici, vediamo cosa sta succedendo, lato grafico per provare ad avere un'idea di quello che ci aspetta, soprattutto nella fase elezioni. Ora, indipendentemente che vinca uno o l'altro, in ogni caso i mercati daranno una risposta a questo evento. Positiva o negativa che sia, comunque tendenzialmente poi andranno a sistemarsi. Ricordiamoci che se perde Donald, vince la Harris, non è che cambia chissà che cosa a livello mercati nell'immediato. Certo, tiriamo via la FOMO che avrebbe magari sparato su Bitcoin con la vittoria potenzialmente di Trump, però ricordiamoci che la Harris, quindi con tutto il suo partito, ha già detto che comunque combatterà contro Donald. Quindi in ogni caso bisogna vedere che cosa succederà nel post elezioni, in particolare il 2025, quindi non cantiamo vittoria in nessun caso. Rimaniamo sempre con i piedi per terra e analizziamo in modo molto 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 distaccato, quindi senza emozioni ma logica pura. In questo caso cosa vediamo? Vediamo Bitcoin che attualmente si sta muovendo, siamo intorno ai 68.969.000, ci sta. Eh ma doveva andare to the moon? No, non doveva andare to the moon, almeno nell'immediato. Guardati di nuovo il video che ho fatto lunedì scorso, mettiamo un 7 giorni così si capisce meglio. Guardati il video che ho fatto lunedì scorso e vedrai che cosa ne penso, anzi facciamo un 30 giorni, eccolo qua. Vediamo negli ultimi 30 giorni che Bitcoin si è fatto il suo bump, ha raggiunto i 72, 73 quasi K, ha ritracciato un pochino, ora si trova in quest'area ma ci sta. Cioè ci sta questa roba qui, è normale, va benissimo, prima di un eventuale slancio. Quindi bisogna vedere effettivamente come evolverà la situazione. Mettiamo un 6 mesi, vediamo che ci troviamo ora a combattere sulla parte alta finalmente di questo range, visto che prima continuavamo a picchiarci sulla parte bassa, ora finalmente siamo tornati sulla parte alta e vediamo un attimo come si struttura. Qua sul grafico annuale è molto chiaro. Indipendentemente da come vada, ragazzi da qua a qua c'è stato un bel movimento. Ritracciamento, io questa la vedo più come un'accumulazione che una distribuzione, però vediamo cosa succederà. Mi aspetto per fine anno, novembre, dicembre, insomma zona elezioni, quindi prossimi giorni. Se vincisse Trump probabilmente un pump ci sarebbe, magari romperemmo questi 70, andremo a scoprire 75. Ricordo la mia zona è 80-90. Cosa farà Stefano in questa zona? Venderà, venderà le alt, le via fuori dalle scatole. I bitcoin speculativi idem, andrò quasi totalmente ad amparli e poi vediamo cosa succederà, perché mi aspetto il 25 come un anno recessivo. Ah, qua sono su Bitpanda, un exchange carino che sto utilizzando perché è molto semplice, ti fa fare i piani di risparmio, ti fa fare veramente operazioni, vendi, acquista, swap in modo immediato, ma soprattutto perché hai tante cose. Hai come vedi cripto, roba a leva, cripto indici, quindi panieri di cripto, security token, azioni, ETF, materie prime, metalli, c'è veramente un sacco di cose. E a proposito vediamo come se la sta incavando l'oro, eccolo qui, negli ultimi 30 giorni, vediamo, anzi facciamo così, negli ultimi 6 mesi, vediamo che è un'app continuo. E come se la sta cavando anche il mercato americano, quindi andiamo sull'SP500, ETF, anche l'SP500 negli ultimi 6 mesi è andato relativamente bene, è andato meglio l'oro in realtà. Però se vediamo negli ultimi 7 giorni, facciamo gli ultimi 30 giorni, sta lateralizzando anche lui intorno al suo top, magari è più chiaro se mettiamo un annuale, eccolo qua. Siamo lì che lateralizziamo un po' intorno al suo top, quindi in questa fase sappiamo benissimo che un pochino di storno, e c'è stato in questi giorni un leggero storno dell'SP500, ovviamente porta anche Bitcoin a stornare leggermente. Però questo io lo vedo come un retest di un supporto e probabilmente post elezioni magari vedremo, o a ridosso delle elezioni vedremo un ritorno a livelli più alti e conseguentemente anche magari un ritorno a livelli più alti Bitcoin. Io qua sotto ti lascio il link di Bitpanda, se vuoi testarlo, se vuoi provarlo, inseriranno a breve una funzionalità incredibile, non ti posso spoilerare nulla, la sto provando, ti dico solo che potrai acquistare Bitcoin al miglior prezzo assoluto, punto. Quindi qua sotto ti lascio il link, ci sono anche se non vado errato 50 euro bonus, comunque tutto spiegato qua sotto nel link, registrati e inizia a utilizzare la registrazione gratuita, puoi investire poi da qui su tutto quello che vuoi in un'unica piattaforma barra app, perché c'è anche l'app su cellulare. Diamo un'occhiata per curiosità anche agli ETF come stanno andando, perché qui ragazzi che come dico sempre si gioca la partita attualmente. Allora vediamo dal 16 al primo novembre BlackRock ha accumulato come se non ci fossero domani, addirittura 29 ottobre, 30 ottobre, ha accumulato a botte di, questi qua sono tutti milioni come puoi vedere qua, a botte di 800, 600 milioni, 300 milioni e così via. Quindi ha veramente accumulato pesante. Vediamo poi, c'è stato qualche scarico qua e là, ancora qualcosina in scarico da Grayscale ma totalmente riassorbiti, a parte il 22 che era un meno 79 milioni e il primo novembre meno 54.9 milioni, vediamo adesso in questi giorni come si configura il tutto, gli altri giorni sono fogli ed è qui che io vorrei porre l'attenzione. L'ho già detto, lo dico da ormai quando sono stati lanciati gli ETF, dobbiamo tenere in considerazione che attualmente sono prodotti 450 BTC al giorno. 450 per il prezzo attuale che è intorno ai 69 mila per 450 significa 31 milioni, quindi 31 milioni di valore, di dollari, di Bitcoin prodotti al giorno. Questa è la produzione, quindi produzione 31 milioni. La richiesta, e qua stiamo parlando solo di ETF, quindi stiamo parlando solo degli istituzionali, non dei retail. Gli istituzionali sono 458 milioni in questo giorno, 470 in questo, 270, 290 e così via. Vediamo il prezzo più basso è in 32 milioni, l'acquisto più basso, che comunque copre i 450 Bitcoin e l'acquisto più alto 470, quindi qua dentro, anzi 870, 893, Qua dentro c'è una media tranquillamente di 300 barra 400 milioni di richiesta di Bitcoin, c'è un per 10, la produzione è di 31 milioni circa, la richiesta è di 10 volte superiore. Ci stiamo parlando di questo? Cioè il giorno più sfigato hanno comprato 450 BTC, è questo che dobbiamo tenere in considerazione, cioè c'è una richiesta molto elevata rispetto alla produzione. E questo ci fa pensare che ci sia in atto proprio una fase di accumulazione. Poi ripeto, ovviamente ci sarà della FOMO di breve termine, perché se vince Trump magari il prezzo va su, se vince l'Harris va giù, non si sa, non si sa quello che succede. Però dobbiamo tenere conto del fatto che quello che sta succedendo dietro le quinte è un accumulo veramente pesante lato ETF. Poi andiamo a vedere anche un'altra cosa, perché qua in tanti mi hanno scritto, e vorrei puntualizzare, perché ciò che funzionava negli scorsi cicli non è detto che continui a funzionare in questi. Che cosa mi hanno scritto? Mi hanno detto, hai visto la dominance di Bitcoin? Stai, hai visto come sta andando? Sì, l'ho vista. Adesso andiamola a mettere. Eccola qua. Come vediamo la dominance attualmente è intorno al 60%. Cosa succedeva in questa fase? Succedeva in questa fase che nei precedenti cicli si iniziava a tirare via Bitcoin e portarlo sulle altcoin, perché poi ci sarebbe stato un calo, il rally, quindi la famosa altseason e così via. Questo ciclo è totalmente diverso perché la retorica, tutta la narrativa è attualmente spostata su Bitcoin, lasciando da parte le meme coin su Solana o cose simili, però la retorica è qua. E stiamo lavorando su quest'area che voglio andare a ingrandire un attimo e sottolineare insieme. Togliamo l'automatico. È qui che si sta giocando la partita ed è qui alla rottura che si può andare a ipotizzare questo target qua. Come vedi non ho posizionato un target a chissà quale crescita incredibile, spettacolare. No, l'ho posizionato a un qualcosa di relativamente sensato. Mettiamo la scala del prezzo, così si capisce meglio. Eccolo qui. Ingrandiamo. Quindi parliamo di un target, ripeto, tra 80 e 90k. Questo è stato il mio obiettivo. Questo è il mio obiettivo per questo momento qua, per questo ciclo qui. Da vedere ovviamente come andrà. Attualmente siamo nella parte alta di questo box, il che è top. Anche se andassimo a tracciare, come puoi vedere qua, delle linee, delle trendline, chiamale come ti pare. Però questo è il punto, il fulcro dei movimenti. Possiamo tracciare tutte le linee che vuoi. Questo è per i fan delle linee. Vedi possiamo fare questo, possiamo fare questo. Il fulcro è sempre lì. Vedremo come andrà. Per chi mi segue sa che non sono un fan del tracciare linee varie, se non semplici supporti, resistenze, guardare dove si muovono i volumi. Quello che io guardo però è long term. E in long term mi dice che sta avvenendo su bitcoin un pescaggio, un accumulo senza precedenti. Perché questi numeri, e ripeto, sono solo istituzionali, è veramente potente. È veramente potente. Quindi non so che cosa succederà. Non mi aspetto ovviamente il 350 miliardi di milioni, di gigaglioni, di tutto quello che vogliamo, no. Mi aspetto un normalissimo pump, sì. In base anche al risultato delle elezioni, in base a come andrà anche ovviamente mercato, diciamo, senior, cioè quello statunitense, azionario statunitense. Però fino adesso non posso lamentarmi, il mercato è andato bene. Le altcoin hanno fatto relativamente schifo, sì. Però per chi le ha prese fine 2022, 2023 è andato bene, barra in gran parte il 2024. Quindi non ci si può lamentare neanche su questo. Vediamo cosa succederà. Fammi sapere cosa ne pensi tu qua sotto nei commenti. Questo è un videolampo, giusto perché effettivamente non c'è tanto da dire attualmente su bitcoin. Se non analizzare questi dati che abbiamo visto insieme. Vediamo come andranno le elezioni. E teniamo il portafoglio pronto per intervenire. Ti ringrazio per essere stato qui con me, iscriviti al canale se ti fa piacere seguire contenuti di questo tipo. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.